Momento gelido per l'economia ucraina. Nel 2013 la Banca Mondiale prevede crescita zero. La crisi economica e i scontri commerciali con la Russia pesano sulle esportazioni di Kiev, la quale dopo il downgrade di Moody's fatica a trovare finanziatori. Anche gli 11 miliardi di euro del Fondo Monetario Internazionale sembrano essersi arenati. Questo sostegno economico è conseguenza diretta delle tariffe del gas domestico e del teleriscaldamento, molto basse, spiega Cimiao Fan dell'organizzazione di Washington. Perché quando non si riesce a rientrare dai costi, nessuno penserà che ha senso investire. Il capo della Commissione per le tasse e le politiche doganali, però, spiega ai nostri microfoni che il cambiamento non può avvenire dall'oggi al domani. Le riforme nel settore energetico non si possono fare in modo rapido, dice Vitali Komutennek del Partito delle Regioni, e non è possibile alzare le tariffe domestiche quando la popolazione non è in grado di pagarle. Il costo medio delle forniture di gas in Ucraina è tra i più alti d'Europa per mantenere i prezzi bassi. Il paese spende il 7% del PIL in sussidi. Occhi puntati ora sull'accordo commerciale con l'Europa.